Se Camillo Benso, Conte di Cavour, è considerato uno dei fautori dell'Unità d'Italia, Otto von Bismarck lo è per quanto riguarda l'unificazione tedesca, dopo essere stato a capo del governo della Prussia. Ma chi era veramente Otto von Bismarck? Bismarck nacque nel 1815 da una famiglia della ricca proprietà terriera prussiana, i Juncker, che erano una casta molto influente nell'impero prussiano. A Berlino frequentò le migliori scuole dell'epoca ed entrò anche in contatto con molti dei rampolli della famiglia imperiale, Aglian Zollern, facendosi conoscere appunto alla corte imperiale. Dopo studi universitari poco brillanti si dedicò alla carriera pubblica nell'amministrazione pubblica prussiana, coltivando comunque il sogno di diventare un diplomatico, anche se la sua inesistente preparazione al ruolo e la scarsa abilità dimostrata all'università che all'inizio ne resero difficile l'attuazione. Per un caso fortuito però, Otto von Bismarck si trovò presente alla dieta convocata dal re di Prussia Federico Cuglielmo IV nel 1847 per dirimere alcune questioni dello Stato e però in questa dieta colse l'occasione per farsi conoscere un po' tutti soprattutto alla parte più reazionaria e conservatrice di questo Parlamento. Da questa apparizione alla dieta in poi Otto von Bismarck continuò ad aumentare il proprio prestigio. Infatti, dopo le rivoluzioni del 1848 che interessarono un po' tutta l'area europea e la rinascita della Confederazione Germanica nel 1850 la Prussia si ritrovò ad avere un ruolo subalterno a quello dell'impero austriaco e questo scatenò al malumore proprio di tutti gli ambienti conservatori e reazionari a cui von Bismarck si era avvicinato nella dieta del 1847. Proprio Bismarck, in virtù della sua apparizione alla dieta del 1847 fu incaricato di rappresentare la Prussia alla dieta di Francoforte il Parlamento della Confederazione Germanica nel 1858. L'obiettivo dell'imperatore Federico Cuglielmo e quindi di Bismarck stesso era quello di isolare i territori di tutta il nord della Germania e dall'Austria in modo da poterli poi inglobare nell'area di influenza prussiana nel tentativo di ripristinare quell'unità tedesca che mancava ormai da secoli. Purtroppo l'imperatore si ammalò nel 1858 e come principe reggente venne chiamato suo fratello Guglielmo che regnò poi fino al 1861 come principe reggente e alla morte di Federico Guglielmo come nuovo re di Prussia. Il nuovo imperatore Guglielmo era molto più liberale del fratello non vedeva di buon occhio le azioni di Bismarck e il suo comportamento quindi per allontanarlo dalla corte di Prussia lo spedì a San Pietroburgo come ambasciatore, come diplomatico da un lato assecondando il desiderio di Bismarck di avere una carriera nella diplomazia e dall'altro assecondando un desiderio proprio ovvero quello di allontanare lo scomodo Bismarck dalla corte e dagli affari della Prussia. Paradossalmente è proprio grazie ai liberali però che Bismarck torna in Prussia e ottiene il massimo incarico politico infatti nel 1862 alle elezioni i liberali ottengono una vittoria l'imperatore è impaurito, è sì liberale ma non è disposto a concedere più di tanto quindi richiama Bismarck e gli offre l'incarico di primo ministro sostanzialmente dandogli il comando di tutto il regno per i successivi 28 anni Bismarck segnerà un importantissimo periodo storico appena insediatosi Bismarck comincia a pensare a come poter riunire tutti gli stati germanici che al momento appunto erano sparsi in vari ducati oltre alla Prussia vari ducati sparsi per tutto il territorio tedesco e molti di questi erano sotto influenze di altre corone o la Danimarca o l'Austria proprio da due ducati sotto l'influenza della corona sotto la giurisdizione della corona danese ma sotto l'influenza austriaca partì l'idea di Bismarck di iniziare a sottrarre territori agli altri regni circostanti questi due ducati erano quello dello Schlesing e dell'Holstein ed erano appunto sotto la corona danese ma erano di tradizione germanica ed erano obiettivi della Prussia per poter cominciare a ricostruire uno stato tedesco unito Bismarck ebbe un approccio molto diretto alla questione Schlesing-Holstein infatti prima o meno c'era una guerra contro l'Aster poi ne condusse direttamente una abbastanza breve contro la Danimarca pur di ottenere questi due regni vi riuscì solo parzialmente infatti poi solo nel 1865 i due regni ebbero una destinazione certa infatti sia lo Schlesing che l'Holstein si staccarono effettivamente dalla Danimarca ma solo lo Schlesing passò direttamente alla Prussia l'Holstein andò all'Austria come accordi diciamo di guerra Bismarck però appunto non era ancora soddisfatto Bismarck voleva l'unificazione dello stato tedesco inaspettatamente il cancelliere prussiano trovò un valido alleato nell'Italia l'Italia in quel tempo si era appena unificata aveva avuto una lotta contro l'Austria per ottenere i territori che le servivano per avere diciamo il controllo di tutto il territorio nazionale italiano e soprattutto per questa guerra era servita per cacciare gli austriaci da alcuni territori importanti del nuovo stato italiano in più questa guerra di indipendenza italiana era stata fatta con sostanzialmente il lascia passare della Francia che non aveva messo i bastoni fra le ruote all'esercito piemontese durante l'invasione italiana anche se poi c'era ancora la questione romana aperta ma questa è un'altra faccenda che paradossalmente andrà in parallelo con un grosso avvenimento in area tedesca quindi appunto Bismarck capisce che l'Italia può essere un valido alleato contro l'Austria proprio perché aveva avuto delle guerre recentemente e aveva unificato il territorio proprio ai danni dell'Austria proprio l'Italia fece il primo passo infatti spinta da Napoletene III, il capo di stato francese l'Italia appunto spinse per un'alleanza con la Prussia in funzione anti-austriaca questo andava bene per tutti la Prussia voleva indebolire l'Austria l'Italia voleva conquistare gli ultimi territori dall'Austria e Napoletene III non voleva uno stato austriaco, un iperaustriaco forte visto che era uno dei suoi diretti avversari in politica internazionale dopo una breve guerra tra Prussia e Austria la Prussia si ritrovò dalla Confederazione Germanica sancendo nella fine e creò la Confederazione Tedesca del Nord che comprendeva appunto oltre alla Prussia tutti i vari altri staterelli tedeschi e Bismarck ne fu eletto sostanzialmente il capo ora Bismarck non restava che unificare tutta la Germania ma i problemi erano ancora concreti e molteplici infatti se come era ovvio l'Austria non voleva uno stato tedesco unito e forte ai propri confini nemmeno la Francia lo voleva un primo tentativo fu fatto nel 1868 quando la Confederazione Tedesca del Nord votò a favore dell'unificazione tedesca ma non andò a buon fine per motivi politici il secondo tentativo si ebbe nel 1870 dopo la sconfitta della Francia Sedan nella guerra franco-prussiana in questo modo con questa sconfitta Napoleone III veniva cacciato dalla Francia la Francia veniva indebolita, diventava una repubblica da lì sarebbe nata la terza repubblica francese la Prussia otteneva influenza su tutti gli stati tedeschi e isolava politicamente l'Austria questo ebbe due effetti la reunificazione degli stati tedeschi pochi mesi dopo sotto la guida prussiana e di riflesso anche la fine della questione romana in Italia infatti Napoleone III era uno streno difensore del Papa di Pio IX e dell'integrità dello Stato della Chiesa è venuto meno Napoleone III lo Stato italiano attaccò Roma con la breccia di Porta Pia ed entrò a Roma ponendo fine il potere temporale del Papa ma questa è un'altra storia il crollo della Francia e di Napoleone III permise Bismarck di forzare la mano quindi il cancelliere prussiano proclamò l'unificazione dello Stato tedesco sotto la guida prussiana con a capo Guglielmo I di Prussia come primo imperatore tedesco e ovviamente con Bismarck come cancelliere queste due cariche furono ratificate dopo le elezioni del primo Parlamento tedesco il 3 marzo del 1871 e da lì si parla di storia tedesca non più di storia prussiana ora che le questioni estere erano tutto sommato risolte Bismarck si poteva concentrare sulle questioni interne al nuovo Stato tedesco dove sostanzialmente c'erano due nemici il primo era il partito di centro cattolico che era rappresentante della minoranza cattolica della Germania ed era un nemico di Bismarck che tra l'altro era protestante Bismarck fece di tutto per soffocare questo partito non voleva che prendesse piede e lo considerava pericoloso ma il nemico più grosso per Bismarck non era tanto il partito di centro quanto il partito socialista i socialisti, i socialdemocratici infatti furono molto diciamo le politiche di Bismarck furono rivolte molto di più a contrastare i socialisti, i socialdemocratici che i cattolici, gli antiunionisti diciamo in generale proprio per contrastare comunque questi due problemi Bismarck diede avvio al Kulturkampf ovvero la battaglia di civiltà così chiamata da Bismarck appunto ovvero volta a imporre la sua visione di civiltà all'interno del nuovo stato tedesco per fare questo cercò anche di emanare leggi abbastanza liberticide come quella del 1875 contro la propaganda socialdemocratica queste leggi non ebbero completamente il successo sperato ma furono prese poi ad esempio poco più di 50 anni dopo da Hitler per soffocare le opposizioni al nazismo sempre in Germania per quanto riguarda la politica estera del nuovo stato tedesco invece Bismarck optò per qualcosa di abbastanza inedito infatti propose un'alleanza tra i tre grossi imperi quindi quello tedesco, quello austriaco e quello russo e una con l'Italia che con il nuovo stato tedesco aveva abbastanza cose in comune infatti si era appena riunificata esattamente come lo stato tedesco era stata divisa per molti secoli aveva l'Austria come nemico anche se appunto la Germania stava risolvendo questo problema e in più voleva la nascita di un impero coloniale tedesco soprattutto per quanto riguardava l'Africa in modo da poter sfruttare risorse minerarie risorse naturali e farsi diciamo riconoscere da tutti gli altri grossi imperi prima o per tutti quello inglese come una grossa potenza mondiale questi ovviamente sono tutti i primi germi di quello che sarà poi l'assetto politico internazionale che provocherà la prima guerra mondiale le alleanze, i sistemi imperiali cioè scusate, i sistemi coloniali creeranno una pace in Europa per circa 50 anni una pace armata ma sforceranno in grossissime guerre fuori dall'Europa soprattutto in Africa tra gli imperi coloniali e in più questo sistema di alleanze abbastanza ambiguo scatenerà per una stupidaggine la prima guerra mondiale tornando alla politica interna negli ultimi anni di impegno politico Bismarck tra il 1881 e il 1889 creò il primo sistema prevenenziale del mondo in Germania ovviamente che consisteva in aiuti in casse malattie assicurazioni per i lavoratori e soprattutto un primo sistema pensionistico volto ad aiutare appunto le persone che dopo una certa età non potevano più lavorare insomma almeno ad avere una una pensione appunto per poter campare gli ultimi anni di vita questo non era fatto tanto per bontà di cuore di Bismarck ma per un calcolo politico era un modo per ringraziarsi la popolazione soprattutto certe fasce di popolazione che non erano tradizionalmente favorevoli ai conservatori razionari di Bismarck nonostante queste innovazioni comunque nel 1885 la politica di Bismarck e la figura di Bismarck cominciano a crollare infatti il governo filo tedesco che si era installato in Francia dopo la sconfitta di Napoleone III cade e si installa uno molto meno amico della Germania soprattutto revanchista desideroso di vendicare la sconfitta di Sedan e anche in questo caso iniziano i primi le prime avvisaglie di ciò che poi sarà la prima guerra mondiale questa caduta del governo francese filo tedesco diede a Bismarck l'occasione di rianimare l'esercito tedesco di riarmarlo di rifinanziarlo questa mossa non piacque ai conservatori non reazionari che appoggiavano a Bismarck ma non erano d'accordo su tutto e appunto portò questi conservatori non radicali ad allontanarsi da Bismarck il colpo di grazia a Bismarck comunque arrivò nel 1888 quando Guglielmo I morì lasciando il trono a suo figlio Federico III che era già malato di un tumore alla tiroide e anch'esso morì dopo pochi mesi facendo salire al trono quello che sarà l'imperatore più longevo della Germania ovvero Guglielmo II Bismarck pensava di poter controllare il nuovo imperatore che era giovane aveva 28-29 anni e non era minimamente esperto perché non pensava di dover salire al trono così presto però si sbagliava di grosso infatti Guglielmo II approvò subito appena incoronato un vasto programma di riforme sociali che non avevano il parere favorevole di Bismarck che non le firmò ovviamente questo contrasto tra imperatore e cancelliere aumentò nel 1890 tutti i sostenitori di Bismarck nel Parlamento persero la metà dei seggi a discapito dei socialisti che invece furono il partito più votato anche spinti da queste riforme sociali volute da Guglielmo II che badate bene non era assolutamente socialista chiariamolo subito però queste riforme sociali ovviamente avevano dato voce alle istanze socialiste almeno in parte e la popolazione aveva premiato il partito socialdemocratico tedesco che appunto si ritrovava ad essere il primo partito nel Parlamento tedesco per fermare i socialisti a suoi acerri nemici Bismarck propose una politica molto più repressiva premetto non era obbligatorio per il cancelliere di mettersi dopo le elezioni per quello che Bismarck rimane in carica nonostante i socialisti siano il primo partito comunque appunto Bismarck propone prima di tutto una politica molto più repressiva verso i socialdemocratici e poi addirittura un colpo di stato per sovvertire gli esiti del voto a queste proposte tutti i ministri del suo governo decisero di abbandonarlo perché era ormai ritenuto una persona non più idonea a ricoprire l'incarico e quindi Bismarck fu costretto a rassegnare le proprie dimissioni il 20 marzo del 1890 si chiudeva così il lungo periodo al governo di Otto von Bismarck e si chiudeva con la concessione da parte di Guglielmo II del titolo di duca di Leonenburg un titolo onoritico che però gli dava un vitalizio per poter insomma per poter vivere serenamente gli ultimi anni di vita Bismarck ormai libero dagli impegni di governo si ritrovò vita privata e poi morì nel 1898 il 30 luglio come ho detto Bismarck è ricordato come il fautore dell'unità tedesca e come colui che ha creato quella dopo la sconfitta di Napoleone III Sedan nel 1870 ha creato quella pace armata che ha governato l'Europa fino al 1914 permettendo una crescita della popolazione del benessere almeno in parte ma appunto creando anche quella catastrofe che poi è stata la prima guerra mondiale che ha cambiato il corso della storia bene spero che il video su Bismarck vi sia piaciuto e noi ci vediamo una prossima volta ciao a tutti a tutti Grazie a tutti.